Parliamo ora di rischio idrogeologico a Castronuovo Sant'Andrea l'ennesima frana che crea non pochi problemi alla viabilità locale. Chiusa la provinciale 42. Sentiamo i particolari nel servizio di Luigi Di Lauro. Il maltempo e gli incendi di questa estate 2018 rendono sempre più difficile in regione la situazione dal punto di vista idrogeologico. L'ultima emergenza in ordine di tempo a Castronuovo Sant'Andrea dove il sindaco Antonio Bulfaro dopo un incendio sviluppatosi nella giornata di domenica 19 con una ordinanza ha chiuso al traffico la strada provinciale 42, unica arteria di collegamento con i vicini comuni di Roccanova, Chiaromonte, Calvera, Teana e Sanchirico Raparo con gli immaginabili disagi per residenti e turisti. La disagi perché nel momento in cui le persone che abitano ad esempio Terzo da Senise per venire qui in paese a Castronuovo devono fare un giro abbastanza lungo e le strade anche non sono delle migliori diciamo. L'alternativa all'infuori di quelle strade interpoderali non ci sono altre perché altrimenti bisogna andare per quasi Senise, girare per Roccanova e andare su per le morgitelle. Una chiusura ritenuta necessaria dal sindaco per evitare possibili incidenti a causa della caduta di massi sulla sede stradale. Noi abbiamo emesso un'ordinanza di chiusura perché certamente c'è da intervenire per ripristinare ed è anche un discorso piuttosto urgente perché noi abbiamo circa il 40% della popolazione, dell'intera popolazione che vive a valle di Castronuovo e quindi crea moltissimi disagi anche per il collegamento verso Senise e verso gli altri centri, verso sud. È una strada importantissima ed è l'unica strada che ci porta fuori da Castronuovo, anche verso l'ospedale, verso Senise e verso la Sinica. Al momento siamo in contatto con la provincia e con la protezione civile e dovranno decidere cosa fare e come fare l'intervento.